Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, stupratore seriale, sapete vero la notizia è di questi giorni, la polizia di Roma avrebbe individuato l'autore degli stupri, una persona come si dice al di sopra di ogni sospetto, molti hanno speculato anche sulla sua appartenenza al PD, al Partito Democratico, così come se il Partito Democratico o qualsiasi altro partito fosse una scuola di stupratori, per carità, questo signore, questo stupratore seriale poteva stare in qualsiasi altro gruppo politico, è stato un puro caso che lui si sia trovato nel PD, però io ho letto sui giornali, sulla stampa e anche in televisione ho assistito a tanti psichiatri che si sono pronunciati sul perché, sul perché avvengano queste cose come mai questo soggetto abbia compiuto queste azioni? Stupri in pratica, stupri, va bene? Tutti, tutti hanno parlato di meccanismi, meccanismi cerebrali, di terapie psichiatriche non risolutive, però tutti quanti hanno posto l'accento sul suo cervello, sui meccanismi cerebrali. Io non ho sentito un solo psichiatra, un solo psicologo che abbia fatto il minimo accenno all'ambiente familiare in cui questo signore è vissuto, ma è strano, veramente strano. Più di un blogger ultimamente mi ha chiesto ma in che cosa differisce il cervello umano dal cervello degli animali? Io ho detto che il cervello umano differisce da quello degli animali perché la maggior parte delle notizie che entrano nel cervello umano e che poi costituiscono la nostra mente, e mente deriva dal latino, significa ricordare, in un certo senso noi siamo in ricordo di quello che facciamo, la maggior parte delle notizie arrivano dopo la nascita, la maggior parte le notizie determinanti, quelli che poi veramente ci caratterizzano come esseri umani arrivano dopo la nascita, si chiama processo di neotenia, neotenia, si deve distinguere tra eugenetica e l'eugenetica è quella disciplina che vuole migliorare l'uomo intervenendo sui geni, sul DNA e l'eutenica o eutenetica invece è quella disciplina che vuole migliorare l'uomo intervenendo sull'ambiente sociale, sull'ambiente. Ci fu nel 700 il famoso caso del selvaggio della Veiron, della Veiron, fu trovato in una foresta francese un ragazzo di 15, 16, 17 anni, è cresciuto con gli animali, il selvaggio della Veiron, alcuni parlarono tanto gli illuministi su questo selvaggio della Veiron e non era capace di parlare, non solo non era capace di parlare ma non si riuscì mai a farlo parlare perché fu superata la fase originaria dell'imprinting e rimase allo stato di natura, siccome non aveva avuto interazioni con la società e lui rimase un animale, un animale, il suo cervello, il suo cervello e non poté svilupparsi, svilupparsi a livello di interazioni con gli altri membri della sua specie, ma basta leggere le opere degli etologi, Conrad Lorenz, l'altra faccia dello specchio, soprattutto l'anello di Re Salomone, per vedere quanto è potente l'imprinting, è così potente l'imprinting che può snaturare persino, può trasformare in un animale, un animale lo può trasformare in un essere che ha delle passioni diverse, l'anatroccolo, l'anatroccolo che va, gli anatroccoli che vanno appresso a Conrad Lorenz, che si innamorano di Conrad Lorenz, hanno subito l'imprinting, se l'imprinting è tanto forte per gli animali, immaginiamoci quanto è forte e potente per gli esseri umani, c'è una famosa frase iniziale di Jean-Jacques Rousseau, non so se nel contratto sociale o nell'Emilio, dice tutto è buono ciò che esce dalla natura, tutto è cattivo ciò che esce dalle mani dell'uomo, non c'è cosa più falsa di questa, non c'è affermazione più falsa di questa, ciò che esce dalla natura non è né buono né cattivo e dipende da come viene plasmato dall'ambiente circostante, questo vale sia per il seme di una quercia, vale per il cucciolo di un animale e vale soprattutto per il cucciolo dell'uomo, per il bambino, il bambino, l'imprinting, ora che imprinting ha avuto questo stupratore seriale, perché questo quando è nato è nato all'interno di una famiglia, che io chiamo famiglia monocamica patriarcale, che è composta da papà, mamma, da bambino e bambini, ha avuto papà e mamma, o è stato affidato ai nonni, o è stato affidato agli zii, o è stato affidato in un collegio, in ogni caso ha avuto degli adulti accanto a sé, io ipotizzo che abbia avuto mamma e papà, come di solito a piede, per i bambini, la maggior parte dei quali nascono in una famiglia e hanno mamma e papà, si sono chiesti forse, si sono chiesti forse questi altri psicologi, si sono chiesti forse, io non li ho mai sentiti, dire, ma bisognerà verificare quale imprinting, quale imprinting ha ricevuto nei primi mesi, nei primi anni di vita, no, non esiste, improvvisamente la famiglia monocamica patriarcale è sparita, non esiste più la famiglia, esiste soltanto il cervello, il cervello, bisogna vedere quali sono i meccanismi cerebrali di questo soggetto, intervenire con appositi farmaci, psicofarmaci, farmaci psichiatrici e di seguito, dimenticando che quando uno nasce il cervello è come una spugna asciutta, è una spugna asciutta, dentro non c'è nulla, 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 non c'è nulla tranne che la spugna, questa spugna poi, mano a mano che passano i giorni, le settimane e gli anni, questa spugna si imbeve sempre più di acqua, sempre in più di acqua e questa acqua sono gli eventi, sono gli eventi circostanti, gli eventi circostanti sono e poi diventa la mente, diventa la mente, il cervello è una cosa, la mente è un'altra cosa, il cervello è come la spugna, la mente è ciò che poi piano piano va dentro il cervello, le notizie che vanno dentro, le modalità comportamentali, il modo di relazionarsi con gli altri, bisogna vedere come si è relazionato questo soggetto con mamma, con papà o con l'altra figura adulta di riferimento, perché noi non siamo niente sul piano genetico, il gene è niente, è nulla, se non entra in interazione con l'ambiente, il gene è niente e ripeto, è stato già dimostrato dagli etologi che l'imprinting è fondamentale, è fondamentale per gli animali, immaginiamoci per gli uomini, per gli uomini l'imprinting è tutto, l'ambiente è tutto, però parlare dell'ambiente dà fastidio, dà fastidio perché ci responsabilizza tutti, vuol dire che è un ambiente costruito male, sì, l'ambiente patriarcale è costruito male perché si basa sulla proprietà privata, sulla distinzione tra il mio e il tuo e sul dominio, perché quando c'è la distinzione tra il mio e il tuo c'è anche il dominio, per il possesso del mio e magari anche per rapirmi, per appropriarmi del tuo. Quindi questo soggetto bisogna vedere, bisogna vedere come è cresciuto e che rapporti ha avuto con mamma soprattutto, con mamma, bisogna vedere se papà, come papà trattava mamma, bisogna vedere che cosa è avvenuto nella sua mente, nella sua mente, non nel suo cervello, nella sua mente, è stato rimosso tutto, i psichiatri non fanno alcun riferimento all'ambiente in cui questa spugna si è intresa d'acqua, no, loro badano solo al cervello, ignorando che il cervello è niente al di fuori dell'interazione con l'ambiente, ma basta leggere, ripeto, le opere degli etologi che sono ampiamente dimostrative, va bene, purtroppo il discorso sull'ambiente disturba, disturba perché ci colpevolizza tutti, ci mette di fronte alle nostre responsabilità di una società, di una società che si legge sulla logica del dominio, il dominio del cielo sulla terra, il dominio dell'uomo sulla natura, il dominio di Dio su di noi, va bene cari amici? Ho terminato, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.